Sta vivendo una stagione da sogno la pallavolo Belluno in corsa per la promozione con le proprie due compagini e attorno alla quale si sta consolidando grande entusiasmo, nonostante l'impossibilità per il pubblico, di accedere al palazzetto De Mass. Domani sera alle ore 20 gioca la semifinale d'andata il Cortina Express femminile di B2. Superata senza patemi la comunque forte compagine della Virtus Trieste, ora la squadra guidata da Dario Pavei se la deve vedere contro le veneziane della Fusion Volley. Contro cui giocheranno in ritorno domenica alle ore 18. Chi ha raggiunto quota 10 vittorie consecutive è la Darold Logistics, ossia la formazione maschile allenata da coach Diego Poletto ed impegnata nei playoff di Serie B. Il sogno a 3 non è certo irrealizzabile, anzi, dopo aver superato il Valsugana Padova, stasera alle 20.30 l'avversario sarà il cestetto ferrarese 4 Torri Volley in un match trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Team Emiliano. Sabato alle 18 al De Massa, invece, si gioca il ritorno. Siamo su tutte le gare molto importanti, dobbiamo stare lì sul pezzo e continuare a martellare e non dimenticarci che abbiamo un ottimo organico e un'ottima squadra molto lucida che può fare sicuramente bene. È ovvio che l'obiettivo è fare promozione, ma per farlo dobbiamo stare lì con la testa e dare veramente tutto. Non basta solo sognarlo, secondo me basta, c'è bisogno anche tenerlo dentro nel cuore e dare anima e corpo in questo campionato e in questa fase di playoff per portare a casa il tutto.